Tututututututututu, cavolo sto morendo di farmelo e me ne sono non neanche accorto Ok, ok quindi mettiamo qui a fare qui Pedre e legno Attaccati a questo tempo tu perché devo farlo per forza io Allora Più o meno ciò che volevo fare era fare una casa che arrivasse da un lato all'altro Per esempio da qui fino al di là, ok, tipo su questo piano qui no? Sì, tipo su questo piano qui, ok, quindi prendiamo questa terra, la mettiamo lì e ci mettiamo a fare qui. No, perché sto sputando legno? Allora, cavolo, ho già finito il legno. Allora. Ma, ok, quindi, stavamo facendo qui che dovevo riflettere un secondo su come fare i materiali delle case, i materiali del soffitto e cose varie. Ok, il soffitto lo faremo bianco e il resto lo faremo, ah, dice ancora del legno, il resto lo faremo con l'altro tipo di albero che c'era, questo qui normale. Soffitto bianco, ok, quindi, su così, così. E già oltre questo episodio stiamo già facendo la casa. Non mi era mai capitato, mi ci mettevo un casino e io risorgio per trovare il luogo ideale per fare la casa. Sì, è un po' piccola, non va bene, no. Dimmi che ci arrivi, dimmi che ci arrivi, vai, ok, uno. Aha, 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 ok. Ok, ecco qua, questa sarà la galletta della nostra casa, e quindi cominciamo a farcela. Poi ci faremo una scala che arriva fino in fondo al suo canyon. Allora. Aspetta, qua c'è un altro buco? Ah, è una semplice caverna, questo, però. Sembra che sto già per diventare notte. Strano. No, non dimmi che non ci arrivi. Ci deve arrivare. No, ancora? Vai. Ok. Prendiamo il testo alerta, dormiamo. Questo fa diventare notte. Il sole dov'è? È là, ok. Ok. Ah, qui è tanto è cresciuto questo. Raccogliamo. Perché è così soletto? Non è capito che si fa dormire qui. Quanto siamo? Quattro, ok. Ok. Dormi. Ma perché l'ho rotto? Se morivo così potrei rinascere lì. Ma io sono troppo furbo. No. No. Dice che così va bene. No, soltanto uno ce ne manca. No, questo. Quello là. Ah, ce l'ho già pure. Poi, allora. Qui. Ok. Ok. No, dai, è finito. Oh, andiamo a prendere l'alto. Tanto facciamo così e così. Ok. Contando che tipo il legno sarà così, bisogna fare così. Comunque. Non andrebbe lì. Comunque. Qua faceva il legno. Sì. Qua ci dovrò mettere del legno. Aspetta. Questo togliamolo. Adesso non serve. Qui. Qui. Dimmi che mi basta. Dimmi che mi basta. Scusate, due. Uno, due. No. Ne bastava uno ancora. Ok, così, 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 così. Vai. Ecco, così sarà la nostra casa. Ok. Perché siamo già a terra. Lasciamola così. E con questi assi di legno qui. Con queste. Attenzione queste. Finiamo qui. Ecco qua. Così termina la nostra casa. Il pavimento. Facciamo che termina il pavimento. Nella nostra casa. Porta. Qui. Eccolo qua. E finiamo nel prossimo episodio. Ciao. Ciao. Grazie.